Oh vabbè dai, cos'è questa roba? Seconda puntata del TG Xyuderone di oggi è arrivata, grazie mille Hyper, grazie di cuore. Seconda puntata del TG Xyuderone, io ho un po' paura. Il TG Xyuderone, grazie Hyper. C'è quel pazzo che tiene forte, eh? Era primo anche la settimana scorsa. E benvenuti nella seconda puntata del TG Xyuderone, il primo report settimanale della ciurma. Dopo il grande successo riscontrato nella prima puntata siamo qui con la seconda. Dalla regia ci dicono che questa settimana è stata davvero bollente. Ma com'è? Strogheggiante e carica di contenuto. Ma non è vero. Per questo inizio. Prima di andare avanti con il video, ragazzi, voglio ricordarvi che oggi, alle ore 18, verrà rilasciato il nuovo gusto di Level Up che festeggia i 4 anni. La Star Edition. Che cos'è? Di che cosa sa? Ve la faccio vedere. Ve la faccio vedere. Badabam! Guardate che meraviglia, ragazzi. Logo d'oro, pieno di stelline. Non è davvero un packaging aggressivo. La Star Edition, ragazzi, sa di carambola. Vuol dire un mix di frutta dolce e morbida al punto giusto. Tra l'altro sono molto molto curioso di assaggiarlo anche io. Andiamo un attimino alla prova. Andiamo alla prova. Mezzo litro d'acqua. Un misurino di prodotto. Dai che lo sapete. Shake, 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 shake. Bello forte. Aggiungeteci anche del ghiaccio, ragazzi, perché ci sta con l'estate. E il nostro Level Up è pronto per essere gustato. Andiamo. Che profumo intenso. Che roba! È un sapore davvero molto estivo. Come vi anticipavo, morbido, dolce ma non troppo. E con i frutti che arrivano dopo il primo sorso. Tra l'altro, vi ricordo che c'è una promo incredibile. La migliore. La promo 2x1 con il codice XIUDERONE. Quindi cliccate il link in descrizione. Andate sul sito di Level Up e assaggiate anche voi il nuovo Gusto Star Edition. Codice XIUDERONE. Ne prendi due, ne paghi uno. Level Up. Fatta dai gamer per i gamer. Siamo ProWatt. Settimana in cui finalmente il nostro XIUDERONE ha raggiunto i 10.000 abbonati. La redazione le fa i più meritati complimenti e le augura di arrivare fino ai 20.000 sub. Speriamo. Ma ecco la clip nell'attesissimo momento dei 10.000. E vabbè, e vabbè. Passeo. Ma forse mi sono fatto la barba rosa o i capelli rosa. Arrivo. Oh mio Dio! Ed eccoci! Let's go! Let's go! Let's go! Merda! Eccoli qua! Christian! Mi scusi! Ce l'abbiamo fatta, Maceo! Le notizie continuano dopo lo sport pubblicitario Buona Visione. Ma è lo sport? Ma per favore! Ciao ragazzi! È uscito il restock di Level Up Retro Edition. Un gusto incredibile che sa di mela, ciliegia e limoni. La procedura è sempre quella ragazzi. Un misurino di Level Up. Shakerà! E gusta! Per tutta la settimana, c'è il codice sconto... Xyudarone! Grande! Del 15%. Che aspettate? Andate sul sito e ordinate. Ciao a tutti! Ed eccoci tornati. In questi ultimi giorni l'imperatore, il maestro, il re di Twitch Italia, Xyudar ha annunciato cosa farà per le 10.000 sub. Il 25 luglio dalle 21.40 fino alle 22 circa. Xyudar insieme alla sua band suonera musica che a detta sua ci farà esplodere le orecchie e farci sentire come se avessimo un peperoncino nel culo. Da quello che sappiamo, Xyudar è un batterista. Ma ecco una clip di quello che potrebbe succedere. Ma questo è vecchissimo! Ma dove cazzo l'ha trovata? Vendetta, questo ha preso 56... 56 like. Ma come? Povero me, cazzo. Ci serve triste? Si serve arrabbiato? Scioccato? Depresso? Talma seo! Vendetta? Ma per favore! Ma chi cazzo è che ha fatto questa cosa? Ma porca troia! Ma chi è questo qua? Ah, è Blur quello! Ma che devi essere deficiente per fare una cosa del... Bello! Questo è molto molto bello! Lo valutiamo questo e ovviamente valutiamo anche... TGX Shooter ragazzi! Non molla un cazzo eh raga! Non molla un cazzo raga! Merda! Vai che andiamo! Allora! Bene, l'abbiamo visto! Tratto da una... Aspetta, 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 aspetta... Vieni qui a farti un gelato con me! Ma per favore! Allora con questo supereroe! Per favore! Ma per cortesia! Ma porca troia! Ma ma che sembra un po' Quegli sbuffolosi! Allora... Però non si può ragazzi! Non si può fare una raga tra... Dal jellyfish automatic! Questa è una pura follia! Devi difenderti dalla mamma del ma... Devi difenderti dalla mamma del mano! Perché riprendete queste fotografie? Perché riprendete queste fotografie? Per favore! La zucchina gigante in mano per... Dai parola cazzo! Dai! La classe diventa Xyuder! Dal signor Beginning Run! Aspetta! Quando in classe ricordano al prof l'interrogazione... Questo è bello! Ed è verissimo! Il ginecologo che faceva già l'uso quella puttana di tua madre! È vero! Cos'è Avengers End Xyuder ragazzi? Dai che cosa... Non è vero! Dai addio! ma io non ce la posso fare signori io vado a prendere il mio bastone nel culo signori io vado a prendere il mio bastone nel culo merda oggi stiamo andando forti e corredi tra ragazzi oggi non sono cambiato per niente in caso stiamo andando forti quando in chat ti chiedono se porti formula 1 ma che cos'è ma perché ma perché sì sì sicuramente per il cast che si era fatto tardi bella questa cosa che cos'è io non xyuder i miei sogni sono sempre molto chiari e riguardano fatti che mi sono accaduti realmente i sogni dello xyuder c'è un countdown non posso lavorare in queste condizioni raga ma io non posso lavorare in queste condizioni raga limo di xyuder su fondo non si sa come mai la mamma del manu andava in giro per la strada con la mini 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 condam la chiamavano la donna ingoiatrice non si sa come mai la mamma del manu andava in giro per la strada caro 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 piccolo manu piccolo bimbo nutella ma dove cazzo li trovano? il bambino 2010 che si crede figo perché fuma e bestemmia cade dalle scale perca troia porca troia ma no ma no easy merda bella bella questa bellissima bellissima questa un saluto i polmoni di xiu guardi la chat e vedi uno spam di 900 i polmoni di xiu YouTube che la chat o la cosa cosa mi era successo no cosa cazzo mi era successo la merda molto bella molto bella quando ti dice uomo senza palle ma te ne hai così tante da fargli vedere quelle di scorta dove cazzo avete trovato queste fotografie Dove cazzo avete trovato queste fotografie Merda Ma che cazzo è Ma chi è che le ha trovate Ciudor vi piace il nuovo overlay? La chat è molto bello Perché? Ma è molto bello Non vi piace il nuovo overlay? Porcaccia puttana Cosa prende un culturista Ancora Gli asteroidi Merda Non ce la toglieremo mai questa ragazzi Però oramai diciamo Che dobbiamo fare L'ultimo Quando pensi di saper cucinare Ma poi assaggi ciò che hai cucinato Qual è il problema?